Come trascorrere il giorno del compleanno. Lettura 6246 Prendo spunto dal fatto che oggi sia il mio compleanno, esordisce un ragazzo ricevendo in cambio un applauso da tutta la sala. Nel giorno del compleanno alcuni ricevono dei regali e fanno festa con i familiari e gli amici, e gli aggiunge. Altri invece, come me, preferiscono il silenzio della riflessione. Si rivolge poi al maestro chiedendogli se ci sia un modo migliore per trascorrere il giorno del compleanno. Il maestro sorride e sottolinea come la maggior parte delle persone si aspetti regali e festeggiamenti, ma è solo senso comune e ingordigia, In aggiunta, durante il mese del vostro compleanno spesso vi accadono delle cose spiacevoli. Sono avvisaglie della natura per farvi rientrare nel percorso coerente. Egli spiega come il giorno del compleanno sia perfetto per esprimere gratitudine. Fin dalla più tenera età però, continua il maestro, siete stati abituati ai regali ed è così che siete cresciuti, ma la natura, nel tentativo di farvi comprendere le sue leggi, durante quel mese prova a mandare dei segnali. Provate a sentire gratitudine invece che pensare ai regali, nel giorno del compleanno, e gli dice Siate grati per essere nati su questo pianeta. Siate grati ai vostri genitori che ve lo hanno concesso. Siate grati a chiunque vi sia vicino e vegli su di voi. La prossima volta, anziché ricevere dei regali, fate una bella torta di compleanno e offritela con tutto il vostro cuore. Il mese in cui cade il compleanno dovrebbe essere un periodo dedicato pienamente allo studio. Dovreste studiare, riflettere e cercare di colmare le vostre lacune durante tutto il mese, conclude il maestro, e dovreste cercare di comprendere i motivi per cui siete venuti qui sulla Terra e chiedervi se stiate vivendo come quella persona di cui la società abbia bisogno. È così che dovreste fare. Fate in questo modo per tutti gli anni avvenire e approfondite anno dopo anno così da poter vivere con gioia circondati dalla benedizione della natura. Grazie a tutti.